Ciao, sono Antonio Buonocunto, ho 20 anni e vivo a Roma, anche se sono originario di Napoli, precisamente Torre del Greco. A dieci anni ho iniziato a studiare teatro e cinema e finalmente da tre anni sono qui a Roma, mi sono trasferito, proseguo i miei studi e parallelamente lavoro anche in questo campo. Beh, che dire di me... un'abilità che mi riconosco è quella dei dialetti. E sì, perché io amo tutti i dialetti italiani, tutti, ma soprattutto amo il napoletano, che è appunto il mio dialetto madrilingua, il romano e anche il siciliano su parte. Questi sono i miei profili. E beh, che dire più? Ci vediamo, ciao!